Buongiorno e benvenuti, questa è la segna stampa di oggi 11 settembre, vediamo subito i temi su giornali. Ovviamente la scuola riparte in salita, secondo il Corriere della Sera. Banchi, mascherine e certificati medici sono questi ancora i dubbi che ci sono nella scuola. Questo è il titolo del Corriere della Sera, che è stata la prima a essere chiusa a marzo, come vi ricorderete, di quest'anno ed è l'ultima tra le scuole europee da essere aperte. Quindi, ancora, banchi, mascherine e certificati medici. Ancora non sappiamo bene come muoverci sulla scuola, se a voi sembra normale, a me mi sembra una cosa incredibile. Vediamo subito quali sono i commenti favolosi. Il primo tra tutti è quello di Crisanti, uno che deve aver veramente perso la brocca, quello che lavorava in Veneto con Zaia, perché oggi in un'intervista su una delle questioni cardine, cioè quelle della temperatura, che cosa dice? La temperatura non può essere misurata dalle famiglie, ma deve essere misurata dalle scuole, perché la febbre è una cosa seria e non può essere delegata ad 8 milioni di famiglie. Toc toc! Crisanti, ti voglio comunicare che non 8 milioni di famiglie, ma 20 milioni di famiglie, prendono la febbre, fanno lo svezzamento, accompagnano i bambini a scuola, li tengono per mano, gli insegnano l'educazione fisica, l'educazione elementare, l'educazione sessuale, si augura. Crisanti, il mondo tuo, per cui le famiglie non sono in grado di misurare la febbre, è un mondo da TSO, da dittatura sanitaria. Non mi considerate per favore uno di quei cretini che manifesta con gli arancioni, ma se un medico mi dice che misurare la febbre è una cosa troppo seria per non lasciarla alle famiglie, bene, quel medico per favore non lo facciamo parlare, lasciamogli, cioè facciamogli dire quello che gli pare, però consideriamo quello che è, cioè un personaggio pericoloso, diverso dal punto di vista di Gramellini, che anche lui dice per quale motivo le famiglie devono misurare la febbre, dovrebbero mettere i termoscanni davanti alle scuole, non ci si rende conto che cosa succede in quei minuti prima di andare a scuola nelle famiglie, io lo so bene perché i bambini sono sempre in ritardo, è sempre un casino, misurare la febbre per 5 minuti, tenerli buoni, e poi dice Gramellini, questo è fatto per scaricare la responsabilità. Allora, il tono di Gramellini ovviamente non è quello di un cazzone come quello di Crisanti, da un punto di vista ideologico, intendo cazzone per carità, perché è più seria l'obiezione, ma anche su Gramellini la mia obiezione è ragazzi, ma lasciamo un po' di responsabilità agli individui, cioè dove stiamo arrivando, che la responsabilità è solo statale, è solo pubblica, cioè tutti quanti devono essere, e poi noi che chiediamo alle famiglie di essere irresponsabili, chiediamo invece la responsabilità ai professori, che peraltro questa responsabilità dice Nordio oggi, sul messaggero non se la vogliono prendere perché gli abbiamo messi una tale paura, per cui dicono un terzo di loro che sono fragili, un terzo di loro che dicono che non vogliono farsi sieri, e dice come si chiama Nordio, eppure toc toc gli fa ai professori, forse non siete proprio la categoria che ha perso più soldi in questi ultimi sette mesi, vabbè, come volete, comunque, banchi consegnati, 100.000, arcuri, 100.000, 2 milioni e 4, 13.000 i positivi tra i 100.000 testati dei professori, e i 60.000 mancheranno. Mi auguro che non sia così, ma me lo auguro sinceramente, ma mi sembra che i prodromi per cui questa scuola sia un casino pazzesco, nonostante i tempi che abbiamo avuto, è lì da vedere. Poi sai, se ancora ci stiamo scontrando su chi deve misurare o non misurare la febbre, io dico che banalmente le famiglie hanno tante di quelle responsabilità nei confronti dei bambini che crescono da 0 a 5 anni, che non riesco a capire perché non si possono assumere anche la responsabilità, come tante altre responsabilità, di misurargli la febbre, ma siamo nella follia più totale. Mancano anche le mascherine, invece ci racconta oggi il giornale, cioè anche le mascherine, 11 milioni di mascherine che dovrebbero essere pronte, non ci sono e siamo a posto. Zangrillo, ieri intervistato, dice, devo dire che Zangrillo ogni tanto veramente, diciamo le parole stonate, citando lui, o fuori focus gli escono, dice il Cavaliere, se avesse preso il virus a marzo sarebbe morto. Beh, ogni tanto il silenzio è d'oro. Amendola, intervistato dal Corriere della Sera, ministro europeo, dice una cosa gravissima, nel senso che è gravissima dal punto di vista politico, anche se può essere giusto dal punto di vista proprio geopolitico, dice il 5G, c'è la nuova tecnologia, che quattro cazzoni di complottisti legano al coronavirus, ma lasciamo perdere i complottisti, ma la questione vera è che il 5G è troppo cinese, i nostri dati sono troppo importanti, non possiamo far fare 5G ai cinesi, dice Amendola. Insomma, un'idea di una linea politica rispetto alla Cina completamente diversa rispetto a quello che pensa il ministro, come si chiama, Di Maio. Molto interessante, quindi, la posizione di Amendola, che dice, tra l'altro, sulle mie linee, è anche quella di, come si chiama, di Guerini, del ministro di difesa. Andiamo avanti sulla questione di Willy, che è una questione che, vi ho detto, mi ha colpito particolarmente, perché la brutalità di quello che è avvenuto è la brutalità un po' della nostra infanzia. Chiunque abbia vissuto normalmente, e che non sia come, non so, Dasha Maraini, che non sia come qualche fighettino di questi che oggi scrivono sui giornali, che forse stavano nei loro salottini in cui il massimo che potevano fare è vedersi un cannino degli anni 70, insomma, chiunque abbia vissuto normalmente sa che le risse, purtroppo, in qualsiasi quartiere, città, compagnia, ci sono state, i risosi ci sono stati, i picchiatori ci sono stati, quelli che hanno mandato all'ospedale le persone ci sono state, però a questi non gli sta bene questa situazione e perciò continuano a pensare che la risa e la banalità, non banalità, scusatemi, e il male assoluto, come l'ha descritto oggi i veneziani in maniera mirabile sulla verità, esistono e non ha nulla a che vedere con il razzismo e con il fascismo. Ma qui questa cosa qua non gli va bene. L'unica questione di cronaca che vale oggi sul messaggero che parla un'amica di Willy, l'hanno colpito in quattro e senza pietà, la ragazza che lo ha tenuto fino all'ultimo, è una storia che più andiamo avanti sui particolari e più ci si rende conto che questi animali, qualcuno dice non li definire animali perché gli animali hanno qualche ragione per uccidere, cioè la fame, mentre questi non ce l'hanno neanche quello. Insomma, io non so come descriverla, queste merde che hanno ucciso Willy, in realtà avevano anche avuto, scopriamo oggi, altre otto denunce nel passato, perché cosa? Per risse, sempre per la stessa roba. Questi avevano, come dice i veneziani, il menare per il menare e poi i veneziani fa una battuta straordinaria sulla Ferragni, che io penso che sia una donna intelligente, ogni tanto però io non capisco perché debba fare la politicamente corretta. Non c'è bisogno Ferragni, sei fica anche se non fai la politicamente corretta, sei fica anche se fai vedere le borse di Hermès da 50.000 euro, chi se ne frega! Non è che ti pulisci la coscienza se fai vedere una borsa di 50.000 di Hermès e poi dici questa è la cultura fascista, anche perché della cultura fascista non serve un cazzo, non vuol dire nulla riguarda Willy. Tra l'altro, Franco Becchis, oggi straordinario sul tempo, gli fa toc toc Ferragni! Questi se ne vanno a Palmarola, che è l'isola più bella vicino a Ponza, un posto straordinario e che cosa cantano? La canzone di Fedez. Beh, insomma, io non trovo nulla di scandaloso che loro cantino Fedez è l'ultimo, il marito della Ferragni, è l'ultimo delle persone che posso pensare che sia un ispiratore Fedez di quello che loro hanno fatto. Però, stai calma, perché Ferragni non si può, cioè, su queste robe non puoi metterti in questa onda per cui magari forse ti tieni coccolata da Zingaretti che addirittura ieri ha detto a ragione da Ferragni, capisco la volutua di sentirsi ben accolta da Zingaretti, ma semplicemente sei dalla parte sbagliata, perché la violenza, se tu l'avessi conosciuta nei nostri quartieri e penso che tuo marito l'ha conosciuta nei quartieri di Milano, sa perfettamente che è una violenza senza alcun matrice ideologica e questa la rende peggiore, molto peggiore e molto più bestiale. Difficile farlo, secondo me, la Ferragni l'ha capito perfettamente, è difficile farlo capire a una signora come la Maraini che continua a dirci oggi la mentalità fascista dei superuomini, forse inconfondendo tra l'altro la mentalità fascista dei superuomini, mettendoci dentro un po' di tutto, però se questi vogliono dire che colpa di Meroni e di Salvini come ha detto la metra pensée di Sanremo, Rula e Shebrea, continuate a farlo, io mi fido più di Veneziani e di Bekis, a ognuno insomma il suo metra pensée. Su Salvini oggi sia Claudio Brachino sia il giornale dicono, il Corriere della Sera dicono che si sta mettendo un po' più defilato, rispende meno le provocazioni e come possiamo dire è un po' più calmo, però non possono non notare sia il giornale sia Libero una questione pazzesca, da Muccino alle Sardine tutti quanti per i quali l'odio diventa chic, ma Muccino è un altro, cioè mentre la Ferragni secondo me è uno scivolone, quando uno come Muccino dice in un tweet che nessuno gli aveva chiesto, non so in quale comunicato, che lui la solidarietà ha nessuna solidarietà a Salvini perché la sua aggressione se l'è meritata o quando Sartori l'altro vabbè insomma mi viene anche da piangere a pensare che mettiamo Muccino con Sartori cioè uno che è comunque un bravo regista e l'altro che nella sua vita ha fatto zero e continuerà a fare zero ma che ha quindi qualche piccola velleità politica beh dice è un provocatore quindi avete capito la logica cioè Salvini è stato attaccato perché è un provocatore lo dicono sia Muccino sia Sartori li mettete insieme metteteli in una stanza e fateli ragionare tutti e due perché mi sembrano dei due bei cazzoni Bulli di sinistra e protetti dalla stampa dice Farina sul Libero perché insomma uno viene aggredito ma pensate un po' voi se invece di essere aggredito da un'extracomunitaria in Italia pagata da un dipendente da un ente locale fosse stato aggredito Zingaretti fosse stato aggredito un esponente della sinistra da un facino roso di destra quello sì di destra non da Will non dagli amici di Will un facino roso di destra che toglie il rosario a Zingaretti ma cosa sarebbe successo in tutta la stampa mondiale l'hanno fatto Salvini e sapete cos'è? è che la vecchia cosa degli anni 70 è rimasta uguale uccidere un fascista non è reato e questo è il principio ma quella categoria di fascista ci tiene dentro tutti i poliziotti gli esbirri i carabinieri i giornalisti socialisti tutti ce li tiene ci tiene anche Salvini insomma chi se ne frega anche dei giornaloni come li chiama oggi Farina perché i giornaloni come oggi vedi su Italia Oggi sono diventati dei giornaletti l'altra questione fondamentale della Lega è questa storia su cui apre Repubblica tre commercialisti agli arresti domiciliari questi commercialisti non sono tre commercialisti qualsiasi perché sono molto legati alla Lega uno di loro addirittura è quello che avrebbe uno dei commercialisti più importanti della Lega io leggo Repubblica il fatto non la mette neanche come apertura comunque Repubblica è quella che proprio apre il giornale su questi che cosa avrebbero fatto avrebbero comprato da una società fallita un capannone a 400.000 euro e l'avrebbero venduto alla Film Commission Lombarda a 800.000 euro nel giro di dieci mesi il doppio poi bisogna sempre vederle queste cose perché dentro c'è una ristrutturazione bisogna sempre vedere però ci sono tanti elementi diciamo piccoli indizi a presiedere la Film Commission erano sempre questa cricchetta dei commercialisti leghisti arresti domiciliari perché si sostiene che abbiano fatto qualche trusco vedremo quali truschi hanno fatto sono convinto che è una grande notizia da dare perché non stiamo parlando in questo caso dei camici di Fontana bisogna vedere però le carte io ancora non le ho viste come sempre l'accusa è quella che vince sui giornali ma una cosa mi viene da ridere perché appena questi commercialisti sono beccati Bonini sulla come si dice sul Repubblica un'ombra che pesa su Salvini ma qual è l'ombra che pesa su Salvini la responsabilità penale è individuale individuale voglio sapere anche se venissero considerati colpevoli anche se io ho tutto da vedere se sono considerati non riesco a capire però comunque sia bene indagare perché su queste cose non si scherza e perché la moglie di Cesare conviene che sia abbastanza in questo caso non è certamente la moglie però io non mi scandalizzo di questa filone di giornalismo italiano ovviamente che altro c'era oggi vi ho parlato dei fratelli picchiatori vi ho parlato della questione di Salvini intervistamento insomma poi ho detto tutte le cose che riguardano la scuola poi sull'economia vi ricordo che la banca centrale europea oggi sul sole 24 ore cosa sta succedendo l'euro si sta apprezzando nei confronti del dollaro ieri a marzo ha guadagnato il 10% quando l'euro si apprezza cioè vale di più con un euro compro più dollari quindi prima compravo un e 10 ora ne compro un e 20 quasi beh insomma se l'euro si apprezza ovviamente tutti i prodotti che sono denominati fatti in euro è più difficile venderli all'estero perché ovviamente gli costa di più devono spendere più dollari per comprare lo stesso bene denominato in euro quindi l'apprezzamento dell'euro fa male alle esportazioni che è una cosa che interessa molto l'Italia non è un dettaglio ho letto un po' di informazioni su questo sul sole 24 ore se non che il sole 24 ore accanto c'è un pezzo di commento dell'ottimo professor Masciandaro che inizia a parlare del rafforzamento del dollaro allora io agli amici del sole 24 ore dico ragazzi capisco tutto ma voi ci dovete anche pensare che non siamo esattamente dei premi Nobel ma se io leggo che l'euro si sta apprezzando come si è apprezzato e dall'altra parte c'è un commento sull'apprezzamento del dollaro mettetele insieme e capite se state facendo un'informazione non dico buona ma chiara per i vostri lettori per quanto mi riguarda no buona il dollaro si apprezza o no l'euro si apprezza o no vabbè voi direte chi se ne frega pensiamo alle cose serie e dunque pensiamo al sito nicolaporro.it e alla zuppa di porro anche per oggi è tutto ci vediamo domani ciao